Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. Un sabato da dimenticare per gli incidenti a Fondi, quando nel tardo pomeriggio ne sono stati registrati due praticamente quasi in contemporanea. Il primo si è venuto a creare sulla strada Fondi-Sperlonga, all'altezza dell'intersezione con via Chiarastella, intorno alle 18.45. Il secondo in via Diversivo-Acqua Chiara, all'altezza dell'incrocio con via Dei Moi. In entrambi i casi si è trattato di un'auto contro uno scooter. Nel primo caso il ferito è stato condotto all'ospedale di Terracina, nel secondo il trasporto è avvenuto in eliambulanza a Latina. Le condizioni dei feriti non sono apparse come gravi, intervenuti per i rilievi anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, segnalati grossi problemi per il traffico. Gaeta ha denunciato nel fine settimana a un uomo di 50 anni per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. A scoprirlo gli agenti della squadra volante che hanno scoperto l'uomo ad abbandonare ben 35 cassette di plastica vuote nei pressi dei campetti San Paolo del comune di Gaeta. Il signore di 50 anni, dopo le verifiche di rito da parte degli agenti, è stato denunciato a piede libero proprio per abbandono di rifiuti. La questione del degrado della stazione di fondi continua a rimanere tema di estrema attualità dopo i diversi furti, anche delle ruote, delle auto in sosta nel parcheggio adiacente, lo scalo ferroviario e i disagi precedenti dovuti al crollo nella sala d'attesa e altri lavori che continuano ad essere rinviati presso la stazione locale. Sulla questione intervengono anche i partiti politici. Prima azione, ovvero il partito di Carlo Calenda, poi quello di Giorgia Meloni, ovvero Fratelli d'Italia. Tutti chiedono al sindaco che faccia pressioni per avere le risposte necessarie ai lavori che necessita l'intera area. Avvistata una specie aliena nelle acque marine di Sperlonga, a dare riscontro del fatto attraverso i propri social, il parco della Rivera di Ulisse. La specie in questione è il cosiddetto granchio blu che ha destato curiosità tra i bagnanti che affollavano la spiaggia di Bazzano, non lontano dal promontorio della villa di Tiberio. Dal parco fanno presente che l'animale bisogna avvicinarlo con una certa prudenza, in quanto, essendo un grosso crostaceo, se si tenta di afferrarlo, aziona le sue chele con possibili conseguenze dannose. Nei giorni scorsi l'ex numero 10 capitano della Roma Francesco Totti è stato avvistato a Terracina. Totti pare sia andato a cena in uno dei suoi ristoranti preferiti, ovvero al Vicoletto, dove nel passato è stato tante volte immortalato anche con la moglie Ilari Blasi e con amici e parenti. La notizia della presenza al ristorante si è anche trasformata in una news di gossip, in quanto, secondo alcuni paparazzi, l'ex calciatore sarebbe stato in dolce compagnia. Totti spesso si fa vedere in estate a Terracina anche in virtù della propria residenza a Sabaudia. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del GR Locale.